Durante l'ultima assemblea dei soci della Gran Sasso Terramano, resa necessaria dopo la mancata firma dal notaio dell'atto d'acquisto da parte della ditta Marco Finori, aggiudicataria del bando di garra per l'acquisizione degli impianti, è stata votata la revoca della vendita delle strutture di risalita di Pratitivo e Protoselva al gestore Marco Finori, per passare al secondo offerente, la ditta Persia di Tottea. Ma se la seconda ditta non dovesse accettare, allora si aprirà la possibilità, su cui l'ASBUC però ha già fatto sapere di non voler rinnovare la concessione degli usi civici sui terreni, e cioè di far mantenere alla ditta Finori la gestione dell'esercizio nella stagione estiva, grazie alla proroga Covid ottenuta mesi fa, che prolungherebbe la sua presenza ai Pratititivo per altri sei mesi. Purtroppo ieri si è consumato l'ennesima presa in giro da parte anche di questa società, perché la Gran Sasso Teramano, nella qualità dei soci, il 9 di dicembre scorso aveva verbalizzato una riunione dove dava la proroga di sei mesi estivi di gestione degli impianti se la ditta Finori avesse comprato gli impianti. Siccome la ditta Finori non si è presentata dal notaio il 22 di aprile, quindi tutta questa condizione, compresa la proroga dei sei mesi di gestione estiva diretta, è decaduta. Invece ieri sera hanno scisso le due parti, cioè è decaduto come acquirente, ma non è decaduta la ditta Finori come gestore degli impianti. Ora io mi trovo davanti a un dilemma molto importante, perché siccome stiamo parlando di impianti pubblici, perché nessuno se li è comprati, la ditta Finori come li fa ad avere in gestione diretta? Come faccio io a rilasciare una concessione quasi come se fosse un favoritismo a questa società? Non è possibile. È stato deciso, sempre ieri sera alla riunione, che entro sette giorni la ditta Persia, che sarebbe il secondo offerente, dovrebbe far sapere al liquidatore se è disponibile all'acquisto degli impianti. Quindi è una situazione che per sette giorni ancora rimane appesa, perché non sapremo come andrà a finire. Qui purtroppo il problema è quello della vendita degli impianti, perché se dovesse anche saltare la proposta Persia noi ci ritroviamo con impianti non venduti e con un gestore che comunque è stato designato in maniera diretta anziché tramite un bando pubblico. E questa è una situazione molto antipatica. Grazie a tutti.